Il 2021 e il 2022 sono stato vittima di una truffa. Non c'è che ha deciso di metterci la faccia per aiutare tutte quelle vittime che hanno la forza di esporsi. Si svolge in Brasile, coinvolge uomini, proprio più italiani, benestanti. Ci sarebbero almeno una quindicina di persone, tutte italiane, nomi conosciuti, nomi importanti. Uomini che intrecciano delle relazioni con delle ragazze che sembrano avere una vita normalissima, invece farebbero parte di una setta che attraverso degli inganni avrebbe come obiettivo quello di estorcere denaro, inventando delle gravidanze e fabbricando falsi test del DNA. Conosco questa persona, dopo poche frequentazioni, nei fine settimana, esce questa gravidanza, ma non una cosa che io respingo. Dopo l'analisi ecografica dice, tu te ne devi andare da qua. Si fa risentire, tu mi devi dare i soldi, non li voglio io, li vuole la bambina. Da qui quindi parte una richiesta di DNA ai miei ex avvocati di fiducia. Avete messo in dubbio perché lei propone che questo test del DNA sia falso. Mi arriverà un risultato che mi dirà, cuse sicuramente il padre. Allora, l'avvocato Bevi l'acqua è collegato con noi qui in studio. Mi ha raggiunto Silvia Mari, giornalista di Dire. Buongiorno. Grazie Silvia di essere qui. Marina Baldi, grazie. Genetista, fra l'altro una genetista famosissima, ma è qui perché è consulente di parte per l'avvocato Bevi l'acqua. Dunque, un messaggio vocale molto significativo viene inviato sul cellulare di Nunzio Bevi l'acqua che è in diretta con noi, lo stanno microfonando insieme ad Alessandro Politi. Evidentemente è stato uno sbaglio che sia stato inviato questo audio. Viene inviato dalla mamma della sua ex compagna, che poi chiariremo, un messaggio importante perché sembrerebbe dimostrare l'esistenza di una setta. Sentite. Marga, ho parlato con quella là dove fu fatto il servizio in generale perché, come lei disse, che tiene molti servizi da fare e tiene dei nomi che hanno un servizio specifico per quella persona, che è tre volte, per tre martedì successivi e dopo fa un servizio con tutti i nomi che sono portati là. E siccome ci sono persone lì, come lei ha detto, a cui sta dando continuità nel servizio individuale, furono già fatti i nomi delle persone e dopo viene di nuovo fatto in generale, dove furono messi il nome di lei e il nome di lui. Lei disse che sono state create molte vibrazioni nel campo di entrambi ed energie nel campo di entrambi. E come lei esplicò, gli spiriti lavorano e lei chiese di osservare il comportamento di entrambi perché il lavoro non si limita solo a quel momento, ma gli spiriti continuano, lavorando di notte e poi il giorno successivo. Martedì andiamo a fare di nuovo, l'altro martedì di nuovo, per osservare il comportamento dei due. Furono comunque fatte molte suppliche con i nomi dei due, in generale con tutti i nomi, perché per il servizio specifico ci sono già molte persone in corso. Hai capito? Perché tu stia calma e stia ad osservare come lei sta e sta agendo e come lui sta agendo. Gli spiriti lavorarono sodo su entrambi. Sara, scusami Silvia, è incredibile questa storia, è incredibile. Ora, ci sarebbe quest'audio mandato per sbaglio? Sì, esatto. Che però mostra qual era l'intento dietro a tutto questo. Esatto, è un audio che svela tantissimi aspetti di questa storia, dai contorni cupi. Innanzitutto, parlando di una ritualità, ci dice che c'è una setta, che quindi su questo sfondo magico si parla di riti che devono ripetersi e dice anche l'audio che lui, che è poi il protagonista, l'avvocato Bevilacqua, che ha denunciato questa storia e che appunto la dire è ricostruito con una serie di articoli e con un'inchiesta integrale, sta per andare sotto trattamento specifico. Quindi questo ci dà l'idea di una ritualità ben organizzata e pianificata. E appunto c'è l'aspetto della ritualità magico-esoterico e c'è poi l'aspetto di una organizzazione criminale perché quello che è accaduto attraverso far credere a Bevilacqua di avere un figlio con questa donna e poi le questioni scientifiche relative al test del DNA verranno spiegate dalla professoressa, c'è un'estorsione. Quindi un ricatto economico, una truffo, ricatto economico e un'estorsione. Quindi l'aspetto criminale, l'aspetto di setta, perché poi alla fine la setta rimanda proprio a questo concetto di organizzazione criminale, si sposano in una vicenda dai contorni davvero molto, molto cupi. E poi ci sono questi test di falsi test di DNA come l'avvocato Nuzio Bevilacqua che è in diretta con noi ci aveva confermato. E qui entra in campo lei, dottoressa Baldi. Sì, allora in realtà c'è stato già una precedente valutazione perché all'avvocato è arrivato questo test eseguito in Brasile ma questo test è un test in cui non ci sono prove del fatto che sia stato eseguito correttamente. Cioè la descrizione è una descrizione corretta però mancano completamente tutti i grafici da cui poi si sono ricavate le tabelle con cui si fa la comparazione. Il collega precedente infatti aveva valutato che questo test non aveva un significato oltre al fatto che noi sappiamo bene che quando si fanno questi test in ambito forense la cosa fondamentale è la catena di custodia per cui il prelievo deve essere fatto da una persona che riconosce l'individuo che è lì a fare il tampone. Questi tamponi devono essere chiusi in busta antieffrazione che hanno delle numerazioni uniche codice a barre e questa stessa busta che non è manipolabile deve arrivare in laboratorio e ci deve essere la documentazione di ogni passaggio. Invece qui non c'è nulla lui ha fatto il prelievo tre mesi prima dopo altri tre mesi è uscito fuori questo risultato fatto in un altro laboratorio ma con la città dove lui aveva fatto il prelievo insomma è una cosa non accettabile e lei poi fra l'altro aiuterà a testimoniare tutto questo ma Nunzio Bevilacqua che quello fosse un falso test del DNA l'ha compreso e capito dopo Alessandro addirittura con una struttura ben organizzata di persone che avrebbero aiutato addirittura di avvocati che avrebbero aiutato questa donna a far credere il falso all'avvocato Nunzio Bevilacqua che oggi è in diretta in qualità di vittima Facciamo un passo indietro a quello che è successo come siamo arrivati a questo punto a questi test falsati nel 2021 l'avvocato Bevilacqua che è un noto avvocato di impresa molto importante a livello internazionale che inizia tramite questo sito per studiare per approfondire la lingua portoghese per affari per business conosce questa donna nasce un rapporto una simpatia che poi si trasforma in una relazione da lì questa donna racconta di essere incinta da subito l'avvocato Bevilacqua capisce che ci sono dei tempi anomali su anche proprio la dimensione del feto andando a fare i primi controlli lei inizialmente si finge interessata a questo rapporto a fargli riconoscere la bambina dopodiché improvvisamente sparisce il rapporto si congela in qualche modo anche i rapporti si raffreddano e dice all'avvocato guarda non vai via non voglio più avere niente a che fare con te a quel punto chiede di avere questi test gli invia questi test di paternità e qui questi test dimostrerebbero una incompatibilità un'inattenibilità di questi test e da lì ovviamente quindi l'avvocato si trasforma in investigatore in carica un grandissimo avvocato penalista brasiliano che incontra tutta una serie di difficoltà nel far emergere prove documenti e si imbatte in questa struttura composta da sette santoni riti voodoo e in quest'odio abbiamo sentito prima già si può capire quanto effettivamente ci sia dietro un meccanismo strutturato e sarebbero emersi già decine comunque di altri imprenditori italiani cui verrebbero estorti i denari spesso perché a differenza dell'avvocato che era celib era single quindi voleva poteva conoscere questa donna tutti gli altri spesso a quanto ne sappiamo erano sposati o impegnati quindi ecco l'estorsione il cercare di fare un danno reputazionale ecco ci passiamo qui con l'avvocato quindi che sta cercando di fare verità e giustizia in Italia e in Brasile allora ti chiamiamo Nunzio perché altrimenti sembra che tu sia l'avvocato della vittima tu sei la vittima assolutamente sì sei finito tu questa rete sì allora cerco di sintetizzare per far capire anche a chi sta a casa un po' come è andata la questione quindi diciamo che dopo questi miei dubbi che sono sorti con questo esame di paternità in realtà prima dell'esame di paternità voglio fare un brevissimo passaggio indietro quindi dopo questo congelamento diciamo improvviso di ogni relazione con lei ogni contatto ogni informazione io non ho avuto nessun contatto e nessuna informazione del feto dall'inizio quando incominciavo a fare delle domande sulla gestazione ha capito la persona che probabilmente sarei riuscito a capire qualcosa di più a quel punto mi ha congelato il rapporto da febbraio del 2022 fino al momento l'11 maggio del 2022 quando con una chiamata surreale che poi un domani magari sentiremo o qui o anche in altre versioni praticamente la persona continuando a non darmi nessun dato anche benché sollecitato dagli avvocati nessun dato di tipo clinico di tipo gestazionale eccetera mi dice mi devi dare i soldi quindi praticamente senza darmi nessun titolo per cui io avrei dovuto dargli soldi mi dice mi devi dare i soldi sono qui con i miei avvocati siamo pronti con un accordo che tu devi accettare sicché semplicite vieni subito qui a Tubarao vieni a firmarlo perché altrimenti ti posso creare problemi in Brasile e anche in Italia a quel punto capisco che questa è una bella e propria estorsione perché ripetutamente io ho provato a chiedere le documentazioni che mi andassero a sostanziare questo ma lei se n'è uscita con questa minaccia non solo lì ma anche in Italia io poi curioso come sono come sai Eleonora poi ho cercato di capire anche in Italia quali potessero essere i problemi che mi poteva creare e non finirà certamente qui andando avanti dopo l'esame del DNA incomincio a capire che c'era qualche cosa che non andava e quindi incomincio come giustamente Alessandro ha detto una ricerca di questa verità a un certo punto mi pervengono presso la mia abitazione in Roma dei fogli che sono degli screenshot di due conversazioni e qui andiamo alla parte esoterica che l'altra volta giustamente mi chiedevi ma la magia qui cosa c'entra mi arrivano questi due screenshot di queste due conversazioni la prima Eleonora c'è una persona che viene definita Salva Vidas Salva Vidas è un bombero militare significa un pompiere che fa il reschio con il nome della persona e dopo una conversazione di una volgarità incredibile che a noi questo non interessa nella parte finale la ragazza dice aiuta questa persona che dovrebbe essere la maga a inserire all'interno dell'ampolla del contenitore il tuo liquido seminale affinché io possa adorarlo immaginati il mio shock che non capivo inizialmente nella seconda chat invece era una chat di tre persone una chat collettiva dove addirittura qui c'era anche una foto di tre persone erano tre foto con la mascherina perché era nel periodo della pandemia ma ovviamente si riconosce la persona la donna insieme a una signora corpulenta che poi sarà identificata e un'altra persona che era il famoso Salva Vidas questa conversazione cosa diceva sostanzialmente parlava praticamente insieme a questa a questa chat erano inviate anche perché c'erano le foto di allegato erano allegate anche le foto di questa chat erano tre foto di un rito particolare che è un rito si chiama delle sette vele di satana sono delle candele un rito satanico particolare di legamento di magia nera e poi c'era una ecografia in cosa sei finito scusi io non ti sento no in che cosa sei finito e poi c'era una roba assurda la cosa è importante poi arriva questa ecografia di questo feto calcolo l'ora che a me non mi è stato mai dato nulla quindi ti sto dicendo come è andata e praticamente queste persone dicono ok ci siamo tutti noi sono persone che stanno conversando e c'è una sorta di compiacimento su questo feto dicendo che questo feto è meraviglioso che non ha perso l'incanto di questo Salva Vidas che diciamo il seme genetico è tutto suo e la persona quindi cominciano a compiacersi su questa cosa e poi c'è insieme a loro un'altra persona che dobbiamo cercare di individuare che crediamo sia la recruiter di questa associazione che dice stai tranquilla riferendosi alla ragazza perché fondamentalmente andrà tutto bene cioè lei racconta per filo e per segno come lei grazie all'aiuto di questa associazione avrebbe ingannato senza correre alcun rischio il proprio italiano definendolo gilli pollas il mio gilli pollas italiano è stato così incastrato l'ho messo nel tempo di mezzo adesso mi dà un pacco di soldi e una parte punto centrale devi darlo alla matriarca e quindi qua lei dà diciamo atto che è la persona che coordina con queste ragazze l'organizzazione l'anello di congiunzione ma soprattutto la parte finale dice una parte ricorda che quando andrà a buon fine va dato alla matriarca questo è la fi all'organizzazione per la buona riuscita riteniamo non solo è che quel bambino è nato no? la cosa più preoccupante è che ci siano dei minori che sono finiti e finiscono nelle mani di persone di questo genere allora al di là annunzio no? di tutto quello che tu mi stai raccontando ma qui c'è oggi un'inchiesta un'indagine internazionale su quanto sta succedendo di una gravità enorme perché se solo questa cosa è successa a te e poi voi mi dite anche ad altre persone ad esempio ad altri italiani tantissimi italiani sono finiti nella rete in questa rete di non li chiamerei solo truffatori cioè proprio qua stiamo parlando di reati ancora molto più gravi della della truffa io non oso immaginare in mano a che si siano finiti questi bambini è chiaro infatti che la vicenda che Nunzio ha denunciato apre due fronti sui quali dobbiamo concentrare l'attenzione che tutta questa organizzazione criminale è fondata su queste donne che agiscono come esca ma sono a loro volta diciamo devote a una regia che va identificata viene denominata matriarca ma dobbiamo poi capire qual è l'identità vera di questa regia quindi donne che si prestano a quest'opera criminale e bambini sulla cui pelle questo traffico si concretizza anche perché spacciandoli come figli di italiani c'è anche un elemento legato ai documenti che questi bambini cittadini italiani possono avere che chiaramente quel bambino non era figlio di Nunzio esatto non è il figlio di Bevilacqua come di tanti altri italiani coinvolti in questo traffico e la prima questione è la tutela del minore ma c'è anche una questione di documenti che non può non interessare la giustizia italiana Marina Baldi siamo veramente di fronte ad una cosa adesso ti faccio parlare Nunzio volevo far parlare la tua consulente qui siamo di fronte ad un fenomeno un fenomeno che è incredibile criminale incredibile sì e soprattutto ecco come giustamente facevi notare ci sono dei minori in mezzo per cui oltre alla questione della truffa questi bambini vengono educati come dove sono chi provvede a loro mamma mia mamma mia è veramente una situazione incredibile quando l'avvocato me l'ha raccontato sono rimasta senza parole professore e senza parole c'è da dire proprio questo discorso di un legame che non è vero nel senso che quello a cui viene attribuita la paternità non è il padre quindi il discorso è ricattare il padre e tenere in ostaggio il figlio in nome sempre di una economia delle merci vergognosa in quanto al discorso della magia e mi ricordo il mio grande Alfonso Di Nola che era allievo di Ernesto De Martino io non a caso ho scritto doni miracoli quotidiani di gente comune perché antropologicamente il discorso dell'energia della preghiera del bene e del male è una forza è un'energia è una fisica quantistica che arriva a degli obiettivi certo se gli indirizzi nel bene nella preghiera nel collettivo la collettiva speranza della verità è una cosa se fai il resto ovviamente è un'energia prima parlavo di un'indagine internazionale ma spiegami un attimo che cosa è successo dopo la tua denuncia e come si sta lavorando contro queste persone è anche per mettere a tutela non solo voi che siete le vittime di questi raggiri ma soprattutto di mettere a tutela i minori guarda sinteticamente è successo questo che ovviamente voglio cercare di puntualizzare perché ovviamente le eccezioni che possono essere sollevate sono quelle anche diciamo normali non dico banali ma normali queste erano delle cose consegnate anonimamente sì è vero ma queste non è che sono servite come prova sono servite come spunto di indagine investigativa rigorosamente notificate in Brasile che ci hanno dato dei scontri quindi queste chat non sono state utilizzate in prima istanza ma da queste ci hanno portato a verificare sul campo la reale esistenza di questa casa dove sarebbero queste donne dove arriverebbero queste donne a metà diciamo stato di gravidanza una casa che è stata geolocalizzata anche dal mio investigatore all'interno del bosco una cosa veramente che fa paura anche a persone che stanno bene e poi soprattutto abbiamo individuato sia la persona che starebbe nella foto insieme a lei che paradossalmente fa proprio ridi di magia nera di legamenti dello stesso tipo e paradossalmente aiuta le ragazze con la giustizia cosa veramente strana l'altra persona che sarebbe stata identificata con proprio questa denominazione è proprio l'altro ragazzo questo angelo che paradossalmente ringraziando i Dio io sono una persona cattolica e ci credo che cosa è successo quindi abbiamo anche la terza persona ci manca solo la recruiter che rassicura la ragazza questa terza persona paradossalmente come l'abbiamo individuata l'abbiamo individuata perché benché mi avesse escluso dal suo Instagram perché era un Instagram privato la persona in questione si era dimenticata di escludere un'altra mia amica che la seguiva questa persona quando ho chiesto a fronte di queste informazioni se avesse dei riferimenti all'interno dei suoi follower dei suoi contatti questa persona italiana mi fa lo screenshot di queste due persone che diciamo dalle indagini e quindi praticamente abbiamo riscontrato al di là del fatto che hanno detto che non li conoscevano che erano collegati su Instagram allora tu mi devi aiutare perché io so questa è una storia lunghissima no? e noi la racconteremo un po' alla volta pezzo dopo pezzo so che tu mi puoi raccontare un sacco di cose ma io ti roderò tutto il tempo in questi mesi di trasmissione fino alla nostra conclusione perché è una storia che va raccontata fra l'altro ci potrebbero essere anche false certificazioni in conseguenza a spacciare questi bambini come biologici italiani per cui sarebbero documenti falsi passaporti italiani legittimi insomma c'è tutta una storia poi dietro a questo e comunque il pensiero se il santone è brasiliano e la mamma ovviamente non è italiana di cittadinanza italiana e ovviamente quando va ad avere la cittadinanza italiana è di fatto un falso e il pensiero che poi ci sia una vera e propria setta formica così la definiscono perché ci sarebbero tantissime adepte intorno ad un santone e la loro maniera per prendere soldi e recepire i soldi sarebbe proprio questa in tutto il mondo non solo con uomini italiani ma in tutto il mondo per cui sarebbe si sta parlando di una grandissima organizzazione criminale che si muoverebbe attraverso il fattore magico chiamiamolo così ma fondamentalmente utilizzano le donne i corpi femminili magari anche sotto ricatto questo noi non possiamo sapere se magari quella donna che ti ha contattato era ricattata da questa organizzazione criminale questo va messo in conto e chiaramente immagino ci siano le indagini rispondimi solo alla domanda che ti avevo fatto prima però che cosa sta succedendo da un punto di vista gli inquirenti gli indagini il profilo ecco legato alla tua allo stato attuale qual è la situazione allo stato attuale allo stato attuale l'avvocato Edson Ribero in Brasile che ripeto insomma è come se fosse una specie di coppi lì in quel paese e praticamente ha concluso un'investigazione difensiva che è quella notificata quindi che vale come quella di un PM la differenza rispetto al PM che non abbiamo potuto obbligare io dico gli omertosi a parlare perché si sono trincerati dietro un silenzio ha depositato in maniera diciamo puntuale con video anche della localizzazione di questa casa messaggi e fotografie che ha fatto di luoghi abbiamo acquisito anche due un super testimone della faccenda e ovviamente l'ha depositato dove? L'ha depositato a Mina Gerai ad Uberlandia che è il posto del supposto avvenimento di questo test del DNA perché ha trovato grosse difficoltà nello stato in questione di Santa Caterina a interfacciarsi insomma con le autorità ha trovato un grosso muro di gomma diciamo grazie allora grazie Anunzio di essere intervenuto con noi guarda questa è una promessa che ti faccio che continuiamo no perché è veramente assurdo sembra tutto paradossale purtroppo è vero ed è ed è inquietante inquietante ripeto anche per la tutela dei minori grazie a Marina Baldi per essere stata con noi grazie al nostro Alessandro Politi e grazie alla giornalista di Dire Silvia Mari ciao professoressa ciao ci vediamo nei prossimi giorni grazie a tutti